28 38 38 Chioma subito 800 Stavamo insieme tra milioni di spetti Basta 2 Speriamo Oh no, finalmente ho trovato uno con la partita IV Facciamo un All Inclusive Mi dicevo io che la partita IV andava Sì, con lecchie Oh mamma e signor Io sto accorto All Inclusive ha limitato 29 euro al mese Prezzi va inclusa, durata 30 mili Sollecito e corretto su il business.it